Li manderemo sui treni della felicità, li faremo arrivare ad Ancona, dove ci sono famiglie che hanno aperto loro le porte, garantendo il cibo, un letto caldo e l'istruzione. Quello che abbiamo fatto per i figli della guerra, lo faremo oggi per i figli della rivolta. Bambini, salite sopra lo treno a Cassaparo! Appena sento questa notizia, tutti noi siamo saliti sopra questo treno. E' lungo ricordo dove c'erano bambini.